un saluto a tutti i videoascoltatori d'italia medievale oggi presentiamo un bellissimo saggio pubblicato da poco da carocci dal titolo voci sul purgatorio di dante una nuova lettura della seconda cantica a cura di zygmunt barai baraischi e di maria antonietta terzoli che abbiamo un grande piacere di avere nostra gradita ospite e così ci può parlare di questo interessante volume quindi come mia abitudine io lascio subito a lei la parola perché ce lo illustri prego grazie dottor maurizio calì e ringrazio anche l'associazione d'italia medievale per questo gradito invito a presentare appunto questa nuova lettura del purgatorio di dante appena pubblicata dall'editore carocci nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1321 moriva ravenna dante alighieri 700 anni dopo in tutto il mondo abbiamo celebrato questo poeta quasi come se fosse un nostro contemporaneo una guida e una voce che ha attraversato i secoli intatta nella sua forza a ogni nuova lettura duttile e straordinariamente capace di esprimere anche le nostre passioni e i nostri sentimenti in effetti la commedia scritta nei primi vent'anni del 300 ancora oggi ci tocca e ci emoziona racconta storie che ci coinvolgono profondamente presenta vicende di personaggi antichi lontani nel tempo e nello spazio che leggiamo però come se fossero quasi storie di nostri contemporanei questa lettura per così dire metaforica questa possibilità di attualizzare le vicende narrate e di trovare nella commedia talvolta folgoranti chiavi di interpretazione per la nostra stessa vita e per il nostro tempo non deriva solo dall'ammirabile ineguagliata grandezza artistica di quest'opera di questo libro mondo come è stato chiamato in realtà è già prevista nel geniale meccanismo compositivo messo in atto con assoluta consapevolezza dal suo autore i contemporanei di dante leggevano avidamente il poema per scoprirvi accanto a quella di personaggi mitici antichi la sorte ultraterrena di persone che ben conoscevano morte da poco che avevano avuto magari un luolo di spicco nelle vicende cittadine o nella cronaca rosa o nera della città la prima anima che racconta a dante la sua tragica storia è francesca figlia di guido da polenta signore di ravenna e zia di guido novello da polenta ultimo protettore del poeta il suo amante paolo malatesta ucciso con lei dal marito geloso era stato capitano del popolo proprio a firenze nel 1282 quando il giovane dante aveva 17 anni e componeva i suoi primi versi come scrive con sprezzante condiscendenza francesco petrarca in una lettera giovanni boccaccio una quarantina d'anni dopo la morte di dante persino osti e tintori si appassionavano alla commedia e alle sue storie e recitandoli ne storfiavano i versi quella della commedia era in effetti una scandalosa contemporaneità di straordinario impatto emotivo per la menzione esplicita di nomi e di luoghi di colpe note e di colpe segrete di fatti ben conosciuti e di episodi più oscuri affidati dall'ombra di un trapassato alla testimonianza di un imprevisto visitatore dell'aldilà che percorre in carne ed ossa il mondo dei morti e può riportarne notizia nel mondo dei vivi svelando dunque ai suoi lettori verità altrimenti non conoscibili verità del dopo morte nella sua litterature di midi dell'europe all'inizio dell'ottocento lo storico ginevrino jean charles de sismondi notava che il mondo dei morti dei poeti dell'antichità è confuso e quasi incomprensibile quello di dante si presenta invece con un ordine una grandezza una regolarità che catturano l'immaginazione e non le permettono più di figurarselo in un modo diverso in questo bene organizzato al di là in questa perfetta geografia ultraterrena che non ha precedenti i contemporanei di dante potevano trovare risposte a dubbi e paure compensi di giustizia e di punizione rappresentati con straordinaria concretezza e realismo l'argomento del poema se considerato limitatamente alla lettera cioè al primo significato è semplicemente lo stato delle anime dopo la morte come scrive l'autore stesso nella dedica del paradiso a can grande della scala vicario imperiale in italia e suo protettore a verona ma come precisa dante nella frase successiva se invece si considera l'opera dal punto di vista dell'allegoria il soggetto è l'uomo in quanto con demeriti e con meriti per la libertà di arbitrio è esposto alla giustizia che premia e punisce dunque il soggetto siamo tutti noi uomini e donne di ogni tempo luogo e cultura in effetti dante nel suo poema è riuscito a mettere in atto un meccanismo di moltiplicazione infinita di senso attraverso un uso spregiudicato e sapiente delle potenzialità polisemiche e metaforiche del linguaggio utilizzato nella sua forma più alta quella poetica ricorrendo a una maniera di esporre che lui definisce inventiva descrittiva digressiva metaforica ma insieme precisa e determinata concreta di esempio ogni lettore nell'interpretare un episodio della commedia o nel riferirlo con le proprie parole in parte lo modifica e lo carica di nuovi significati la sofisticata allusività dei versi e la complessa polisemia del testo concedono in effetti spazio alle più diverse immaginazioni le esigono quasi ognuno assume le storie narrate da dante e le riracconta a modo suo consapevolmente o inconsapevolmente le adatta alle proprie esperienze e al proprio tempo le riscrive per così dire le integra di sentimenti e di fatti non menzionati nei versi insomma le rende contemporanee alle proprie esperienze alla propria cultura in questo senso ogni nuova lettura della commedia è insieme una interpretazione e una attualizzazione un arduo tentativo esegetico e una più o meno involontaria riscrittura sempre comunque una straordinaria sfida intellettuale ed emotiva veniamo dunque a questa nuova lettura del purgatorio raccolta nei tre volumi di voci sul purgatorio che ho curato insieme con sigmund baransky dell'università di notre dame e che sono appena stati pubblicati dall'editore carocci con il sostegno dell'università di basilea dell'università di notre dame e dell'istituto italiano di cultura di zurigo i tre volumi propongono la lettura integrale del purgatorio che ha visto la partecipazione di alcuni tra gli studiosi e le studiose più note di dante in effetti senza il loro impegno e la loro straordinaria generosità e anche disponibilità questi volumi non potrebbero esistere non in questa forma comunque si tratta qui della seconda tappa di un progetto iniziato nel marzo del 2019 con la lettura integrale dell'inferno pubblicata sempre da carocci nel settembre del 2021 in coincidenza con il settimo centenario dantesco dopo i molti apprezzamenti e giudizi positivi che l'edizione di voci sull'inferno ha ricevuto abbiamo deciso di continuare questa avventura con la lettura del purgatorio conservando lo spirito e la forma di quella prima esperienza ma ricorrendo esclusivamente alla modalità telematica questa scelta ha impedito naturalmente contatti di persona diretti ma ha consentito di partecipare anche a chi si trovava geograficamente molto distante e si è potuto quindi collegare con facilità dai luoghi più lontani e nei tempi più impensabili a fusi orari molto diversi anche. I cinque incontri di questa nuova serie si sono dunque svolti via zoom tra il 21 settembre 2022 e il 22 settembre 2023. Come nella serie precedente ogni sessione è stata aperta da una conferenza serale che era rivolta anche a un pubblico più largo e dedicata a un tema generale attinente alla seconda cantica ma non direttamente trattato in nessuna delle letture dei singoli canti. Francesco Bausi dell'Università di Firenze ha presentato la struttura e i modelli del purgatorio. Giovanna Frosini dell'Università per stranieri di Siena si è soffermata sulla lingua e lo stile tra memoria e modernità. Elena Lombardi dell'Università di Oxford ha parlato a sua volta del tema appunto dell'amore nel purgatorio. Gabriele Albanese dell'Università di Pisa ha indagato l'importanza della tradizione pastorale nel purgatorio e Giorgio inglese dell'Università della Sapienza di Roma, editore come tutti sanno della commedia di Dante e anche interprete, ha parlato proprio della, ha presentato sinteticamente la biografia di Dante negli anni della composizione del purgatorio e ha parlato dei problemi della trasmissione testuale di questa cantica. Queste lezioni sono ora pubblicate all'inizio dei primi due volumi rispettivamente due lezioni nel primo e tre lezioni nel secondo. Nei due giorni che succedevano a questa serata diciamo di apertura di ogni singolo incontro sono stati letti e sono stati discussi sei o sette canti del purgatorio in modo da ripercorrere integralmente tutta la cantica e seguendo in questo una pratica di lettura ben affermata nella tradizione degli studi danteschi, quella speciale analisi testuale che va sotto il nome di Lectura Dantis che era stata inaugurata da Giovanni Boccaccio a Firenze nell'ottobre del 1373. Ma a differenza della formula fin qui adottata e cioè lettura isolata e individuale di un canto da parte di un singolo interprete alle relatrici e relatori di voci abbiamo chiesto di interpretare due canti solitamente consecutivi. Questa formula nuova che abbiamo adottato dopo averne immaginate e scartate molte altre e che è stata anche apprezzata da tutte le recensioni che sono state fatte a voci sull'inferno si è confermata anche questa volta come molto efficace sia per la ricchezza delle letture sia per la compattezza delle analisi sia per le profonde interazioni tra i singoli canti che questo sguardo ravvicinato su più canti ha contribuito a mettere in luce. E non solo per i canti quando i canti sono consecutivi ma anche quando si tratta di canti lontani tra loro come avvenuto nel caso delle letture dei canti 3 e 33 affidate a Simon Baranski e dei canti 12 e 30 affidate a me. In effetti con una lettura duplice svolta in tempi molto ravvicinati si tocca con mano quanto la compattezza della commedia di Dante sia garantita da un sistema di collegamenti interni più o meno evidenti più o meno sottili ma sempre tenacissimi che da ogni punto del testo rinviano a tutto il resto del sistema. Lo abbiamo verificato in maniera che potrei dire quasi sperimentale affidando dunque più di un canto alla stessa persona che così è costretta in un tempo molto breve ad approfondire due canti e quindi accoglierne in un modo anche nuovo rispetto alla tradizione precedente legami profondi e non sempre evidenti. L'altro elemento innovativo di queste letture è stata come nella prima serie l'ampia discussione prevista dopo la relazione. La relazione doveva durare 40 minuti e la discussione 30 minuti quindi è una proporzione molto rara nei nostri convegni. Dicevo che una discussione che era aperta a tutte e a tutti non solo ai relatori e non solo ai professori non solo ai docenti ma a tutti a tutti i partecipanti. È una discussione che in questo modo ha arricchito le singole letture con stimoli con suggestioni con riflessioni con critiche eventualmente. Gli incontri sono stati così anche questa volta l'occasione di un confronto aperto e direi per usare una parola cara a Contini impregiudicato su tutti i canti del purgatorio. Agli autori poi di ogni lettura abbiamo mandato la registrazione del loro intervento e anche della discussione e alla fine di ogni saggio è stato elencato in ordine alfabetico il nome dei partecipanti alla discussione preceduto dal nome di chi ha presieduto la seduta e la discussione stessa da molti relatori e relatrici è stata talora integrata o comunque discussa a sua volta all'interno delle note dei saggi accettando discutendo respingendo le suggestioni proposte indicando tra parentesi il nome di chi aveva fatto l'intervento. Le letture dei canti si leggono ora in questa forma nel primo e nel secondo volume sono 16 canti e 17 canti nel secondo e il terzo volume è interamente dedicato agli apparati. C'è un'ampia bibliografia dantesca che direi che a questo punto è certamente la più aggiornata con le ultime pubblicazioni. Ci sono gli indici analitici, ci sono gli indici dei luoghi danteschi che arricchiscono e rendono più facilmente consultabili i volumi e ci sono anche i programmi che di ogni singolo incontro perché secondo noi c'è un rapporto stretto proprio tra il testo che pubblichiamo e questa operazione quasi collettiva di lettura della commedia. Ecco alla fine di questa straordinaria avventura posso dire che in questi anni di letture dantesche si è quasi formato una comunità, una comunità virtuale ma idealmente molto coesa legata proprio dalla comune passione per la poesia e per la letteratura. Donne e uomini di generazioni, di culture, di metodi anche lontani, questo per noi era molto importante, studiose e studiosi provenienti da università e a volte anche da discipline diverse, persone che hanno seguito le conferenze e le letture per semplice interesse personale. I tre volumi di Voci sul Purgatorio che sono appena usciti testimoniano di questa ideale comunità. Dunque mi è caro ricordare qui il sostegno del direttore di Carocci Gianluca Mori che ha accolto con entusiasmo il nostro progetto di pubblicazione fin dall'inizio senza suo appoggio e senza la perfetta collaborazione bisogna dire dei redattori e delle redattrici di Carocci non saremmo riusciti in questa difficile, difficile veramente impresa. Ma soprattutto vorrei ringraziare un'occasione per me, ringraziare pubblicamente il mio compagno di questa straordinaria avventura e cioè il professor Zimmo Baranski con il quale ho avuto il piacere e la fortuna di collaborare in questi ultimi anni. Come abbiamo detto tante volte e come tutti possono verificare siamo molto diversi per formazione universitaria, per tradizioni nazionali, per origini culturali ma appunto in questa diversità ci siamo riconosciuti e abbiamo trovato una complementarità produttiva e ricca di suggestioni intellettuali e insieme abbiamo potuto risolvere con qualche leggerezza ma sempre con rigore le inevitabili difficoltà e gli imprevisti che in un progetto così ampio e così lungo nel tempo possono inevitabilmente presentarsi nel corso degli anni e devo dire grazie Zinc. Ecco alla fine per salutare e ringraziare anche chi ha avuto la pazienza ora di ascoltare il mio piccolo, la mia piccola presentazione e come auspicio nel difficile tempo in cui ci è toccato in sorte di vivere. Vorrei chiudere questa presentazione, la presentazione di questa avventura intellettuale ricordando le parole di fiducia nel nostro lavoro e nella salvaguardia di una comune cultura e civiltà umana pronunciate alla fine degli anni 70 da un grande italianista e un grande dantista, Umberto Bosco, in chiusura del suo commento alla commedia. Le leggo. Diceva il nostro commento, noi potremmo dire la nostra lettura del purgatorio. È un atto di fede, oltre che nella scuola, nei valori della cultura e della storia. Per salvare la nostra umanità riteniamo indispensabile continuare a far filologia e critica e storia letteraria, cioè sforzarci di comprendere il più esattamente possibile i messaggi tramandatici dalla civiltà comune, che noi abbiamo il dovere di tramandare a nostra volta, essere testimoni e attori di un momento di civiltà che si tende all'avvenire, non per questo rinnega il passato di cui si nutre. Grazie dell'attenzione. Molto interessante, davvero. La mole del volume forse può scoraggiare qualcuno ad acquistarlo, però dovrebbero fare uno sforzo e correre in libreria e fare propria questa meravigliosa opera collettiva, che è un aspetto davvero importante di tutto il lavoro. Quindi io, come mi abitudine, ricordo il titolo, che è Voci sul purgatorio di Dante. Una nuova lettura della seconda cantica, a cura di Zygmunt Baranischi. Io faccio sempre fatica con i nomi stranieri. E Maria Antonietta Terzoli, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostra gradita ospite, che io ringrazio tantissimo per un'esposizione chiara, sintetica e invogliante. Grazie ancora. Grazie a lei, grazie. Arrivederci. A tutti voi, invece, ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove oltre a questa potete rivedere tutte le videopresentazioni realizzate fino ad oggi. Grazie ancora e a presto. Arrivederci. Grazie a tutti.